Ciao ragazzi da Mestix Audio Video Production, oggi vi presento il nuovo pedalino molto piccolo della TC Electronic, questo è l'Impulse IR Loader Pedal. Molte altre case hanno già realizzato pedali di questo tipo, quindi semplici Impulse Response e mancava nella gamma TC Electronic. Quello che mi piace subito di questo pedale è ovviamente il form factor perché è piccolissimo ma la cosa più importante è la facilità di utilizzo perché ci sono tre bottoni principalmente, due piccolini che sono due freccette per andare a selezionare i vostri Impulse Response e quello centrale che semplicemente vi dà il livello dell'Impulse Response che state utilizzando in quel momento. Perché ovviamente tutti gli impulsi possono avere anche delle uscite differenti perché hanno frequenze appunto differenti, soprattutto se utilizzate anche impulsi di diverse case. Pedale molto compatto, mi piace il fatto che il switch è flexi quindi non c'è nessun click, avete l'USB qua di fianco per andare a caricare gli Impulse Response e andare a gestire tutti quanti gli Impulse Response. È stata fatta una collaborazione con la Celestion, quindi avrete precaricati 12 Impulse Response della Celestion dal numero 1 al 12 come banco e andiamo subito a sentire questi Impulse Response con una chitarra elettrica un po' distorta, un po' crunch. Grazie a tutti. Grazie a tutti. In tutto sul pedale avete precaricati 25 Impulse Response, quindi 12 sono della casa Celestion e tutti gli altri invece sono di parte dell'Artista Electronics, quindi sviluppati dall'Artista Electronics. Dalla numero 21 alla numero 25 avete appunto 5 Impulse Response dedicate alla chitarra acustica, quindi andando ad utilizzare il piezzo della vostra chitarra acustica potete utilizzare degli Impulse Response per migliorare appunto il suono. Andiamo a sentirlo subito. Andiamo a sentirlo subito. Grazie a tutti. 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 Per l'acquisto di questo piccolissimo higher loader utilissimo nella pedalboard se volete avere un suono compatto senza dover portare tutte le vostre testate e power amp. Link in descrizione. Come sempre iscrivetevi al canale, lasciate un mi piace e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao.